Ciao, benvenuta in questo video in cui andremo a vedere come puoi attirare a te più clienti per poter lavorare come professionista del naturale, soddisfatta del tuo lavoro e essere riconosciuta in tutto ciò che fai. Ciao, sono la dottoressa Sara Trabalza, farmacista e naturopata australiana e aiuto le professioniste del naturale a sviluppare e creare la loro attività come meglio vogliono, desiderano, proprio perché spesso mi viene detto da molte professioniste che aiuto lungo il cammino nel programma di sviluppo professionale Petals Elite che partono da una situazione in cui magari non hanno clienti, non sanno cosa devono fare per attirare a loro più clientela, lavorare di più, lavorare più ore, avere anche quella famosa agenda piena e quello che sempre suggerisco è andare sicuramente a vedere la storia personale che è la storia di ognuna di noi, proprio perché di base c'è sempre un disequilibrio tra energia maschile ed energia femminile. Adesso lo spiego meglio cosa voglio dire. Quello che accade a tutte noi, e noi lo sappiamo bene perché abbiamo avuto un processo di risveglio e quindi siamo sempre state da allora in un cammino di ricerca, di ricerca profonda per andare anche a guarire delle ferite del passato, profonde, dolorose. Cosa accade in questo caso? Anche il riflesso di quello che è appunto il nostro lavoro interiore sul mondo esteriore, quindi capacità di attirare a noi clienti felici e desiderosi di ricevere i nostri servizi, di ricevere il nostro aiuto, è proprio il fatto di vedere a che punto siamo nel nostro cammino di evoluzione personale. Questo perché di solito quando c'è la ferita del femminile molto aperta, ancora non è stata sanata completamente, ovviamente quando c'è questa ferita appunto tendiamo a rifugiarci di più nel maschile, quindi in realtà invece di sentire essere andiamo più nel fare e quindi ci sforziamo lavorando anche duramente su tanti aspetti, attivando quell'energia young, quell'energia maschile, che in realtà ci porta verso un disequilibrio in tutto quello che è ricevere, perché alla fine saper ricevere in uno stato di apertura, in uno stato di fiducia totale che quello che ci serve arriverà, nel momento giusto arriva, allora dobbiamo assolutamente lavorare su quegli aspetti femminili che magari finora abbiamo un po' rimandato, abbiamo voluto non vedere, proprio perché se non saniamo completamente questa ferita poi ce la riportiamo anche sul discorso professionale lavorativo. è tutto collegato sempre e io questo lo dico alle mie studentesse che mi seguono da tempo, che fanno i miei corsi, che la crescita interiore va di pari passo con la crescita esteriore, quindi se a un livello esteriore sul piano materiale dell'esistenza ci accorgiamo che magari abbiamo un'attività anche da anni, da tempo non va avanti, i clienti sono sempre quelli, oppure diminuiscono, oppure non arrivano nuovi, non riusciamo diciamo a far sì che questa energia si bilanci bene e a volte si deve proprio sbloccare, si crea un'energia stagnante che è lì da tempo e non sappiamo come fare, allora ci adoperiamo, magari facciamo mille cose, cerchiamo di fare anche tanti video, tanti eventi, tante cose, ma il solo fare non basta per poter anche essere e quando siamo in quello stato dell'essere è lì che riusciamo a ricevere ciò che la vita ci vuole mandare sotto forma d'amore, quindi le due cose sì, amore e denaro chiaramente, perché vanno di pari passo e perché è la stessa energia e allora anche lì è importante trovare il punto d'incontro, trovare quell'equilibrio di cui siamo sempre alla ricerca tra il dare e il ricevere e questo si manifesta a livello emozionale quando le ferite femminili non sono state rimarginate come difficoltà a ricevere, a ricevere aiuto, iperprotezione, quindi abbiamo questa diciamo modalità protettiva intorno a noi, un femminile che non è stato guarito si manifesta con dei comportamenti che sono molto comuni al giorno d'oggi, che possiamo osservarli e magari ci possiamo anche riconoscere noi in alcuni di questi, ad esempio non saper ricevere dei complimenti dalle persone, non saper accettare l'aiuto dagli altri, anche un aiuto semplice, voler piacere a tutti i costi agli altri, questo è un altro indicatore che non stiamo con un femminile equilibrato e poi anche quella mania di controllo, di perfezionismo in cui spesso ci si cade proprio perché vogliamo avere tutto sotto controllo e non riusciamo semplicemente ad essere, a stare in quell'energia ma vogliamo controllare eccessivamente, quindi andiamo più che altro verso un maschile eccessivo, verso un fare eccessivo per poter mantenere tutto sotto controllo. E allora questo accade a tutte noi, chiaramente, tutte noi donne, quando ci accorgiamo che ci sono questi atteggiamenti possiamo fare qualcosa per cambiarli e soprattutto smettere di avere quella critica forte interiore che non ci permette di accettarci così come siamo e allora tendiamo ad andare verso il controllo, voler controllare e dirigere tutto come forma anche di compensazione e lasciar fare invece che questa energia possa circolare liberamente e possa arrivare a quelle persone che ci stanno cercando, altrimenti stiamo energeticamente bloccando questo accesso, questa capacità ricettiva di fare entrare, in questo caso fare entrare magari appunto nuovi clienti e nuove persone interessate a ciò che noi stiamo proponendo. Quindi rifletti se c'è qualche parte di te che ancora senti che non è così allineata a quella che è appunto un'energia sana maschile e femminile bilanciata, soprattutto accorgiti se c'è sempre questa tendenza al perfezionismo e allora devi fare 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 per arrivare a quel senso di perfezione che poi alla fine la perfezione sappiamo bene che non esiste, va bene migliorarsi, va bene andare avanti, ma quando diventa eccessivo questo controllo, questo senso di perfezionismo, allora è un indicatore che stiamo troppo nel maschile e stiamo lasciando questa nostra parte femminile che invece è dotata di accoglienza, di ricettività e quindi abbracciare tutto quello che arriva. Quindi permettiti di sentire, invece di andare nel controllo della situazione, permettiti di rimanere in quell'energia femminile che è capace di sentire e di elaborare tutto quello che arriva anche a livello emozionale per poi passare alla fase successiva del viaggio. Se questi contenuti ti sono stati di aiuto, clicca il link qui sotto per accedere alla Destiny Call e vedere se possiamo lavorare insieme.